Amici di Gossip News, appena sbarcata dall'Honduras, la nostra Taylor. Ciao cari, come state? Bene, e tu? Benissimo, alla grande. Com'è il tuo rapporto con Gossip News? Ci segui? Vi seguo sempre su internet, quando cerco Taylor Mega esce sempre qualche news, quindi sempre super nuovi, super freschi. Gossip, quindi il tuo cuore in questo momento è impegnato? Sono tutti curiosi di saperlo? Allora, no, sono tutti curiosi, però in realtà tutti lo sanno, perché è impegnato con Tony F. della Dark World Gang. E invece parliamo festival oppure party questa sera a Sanremo? Il vero motivo perché sei qui? Taylor Mega è più per i party che per Sanremo. Vediamo però se sei preparata a questo Sanremo 2019. Malissimo. Chi lo presenta? Allora, chi presenta il festival? Paglioni e... non mi ricordo. Taylor, va bene. Allora, invece com'è il tuo rapporto con i fans? Però non lo so, è una buona giustificazione, perché sull'Isola dei Famosi chiaramente non si può sapere nulla, quindi io non potevo capire le notizie, quindi diciamo che ho una buona scuola. Com'è stato il tuo impatto in arrivo in Italia? Grande successo, eh? L'Italia è la grande, perché sono tornata alla mia vita, quindi da Dio, non vedevo l'ora sinceramente. Invece, cosa vogliamo parlare appunto di questo festival? Cosa ne pensi? Com'è cambiata la musica italiana nel percorso di questi anni? In meglio o in peggio secondo te? Allora, io sono per la musica trap che ancora in questo momento non è sbarcata in Sanremo, quindi diciamo che facciamo un appello. La musica trap deve sbarcare anche a Sanremo, perché è la musica dei giovani, diciamo. I tuoi progetti futuri, possiamo sapere qualcosa? Anticipazione? So che sei molto richiesta, eh? Allora, spero... Ucci di camerino qui durante il party dicono un grande successo in arrivo per te. Allora, spero, e non voglio augurarmela male, ma spero di partecipare, di fare l'attrice in qualche film. Questa è un amico futuro. O un'attrice oppure sfilata in qualche brand di moda importante. Hai avuto qualche proposta? Molte. Vediamo qual è la più top da partecipare, per partecipare. Un in bocca al lupo che vuoi dare, un consiglio che vuoi dare a tutti i ragazzi e le ragazze che vogliono intraprendere il tuo successo che stai riscontrando. Qual è? Allora, sempre moltissima determinazione e moltissimo impegno. Sono fondamentali in qualsiasi ambito voi vogliate buttarvi. Ultimissima domanda. Com'è, secondo il tuo punto di vista, l'aspetto fisico? Quanto è importante? Beh, è importante al 50%. È molto importante perché comunque avere un bel fisico non è una cosa semplice. Per essere magre, per esempio, bisogna metterci molto impegno. Nel senso, io non mangio, magari mangio poco per moltissime settimane. Non è una cosa così semplice. Però diciamo che è il 50%, perché se tu hai un bel fisico ma poi non rendi, sei si bella ma non balla, non vai da nessuna parte. Ti ringraziamo. Un grande saluto a Gossip News. Grazie a Gossip News. Un bacione. Grazie a Gossip News.